Si avvicina l'ora della quotazione per Estra. La multiutility toscana presieduta da Francesco Macri e guidata dall'amministratore delegato Alessandro Piazzi, infatti, dovrebbe approdare in borsa nei primi giorni di novembre, confermando così le indicazioni dei mesi scorsi. Estra collocherebbe sul mercato da un minimo del 35% ad un massimo del 49% della capitale sociale e sarebbe previsto un patto di sindacato con il compito di blindare il controllo e di assicurare la governance. Estra, attiva nella fornitura di gas, energia elettrica e nel campo delle telecomunicazioni, è presente oltre che in Toscana anche in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con circa un milione di utenti. Nel frattempo l'azienda ha dato il via a E-Cube, la prima startup call di Estra, nata con l'obiettivo di selezionare idee innovative a livello italiano e internazionale, con forti capacità di scalabilità in settori inerenti alle business di riferimento della multiutility.